ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da douglas sono stata da douglas perché sono arrivati degli sconti tramite il cellulare quindi sono andata a vedere cosa diciamo potevo acquistare la prima cosa che vi faccio vedere è questo set di spray di mario badescu fa parte del della linea skin care dove ci sono le tre bottigliette queste l'ho presa a 15 euro e 96 quindi scontate e troviamo uno spray per il viso con aloe erbe di acqua di rose che sarebbe questo poi abbiamo uno spray per il viso ad aloe cetriolo e tè verde che sarebbe questo e in ultimo abbiamo lo spray per il viso con aloe camomile lavanda che sarebbe questo sono tutte in full size quindi sono nelle confezioni quelle grandi e quindi non vedo l'ora di utilizzarle perché vedo spesso le americane utilizzare questi prodotti e quindi ho deciso di acquistare proprio tutta la confezione dove ce n'erano tre perché c'era uno sconto abbastanza alto poi andiamo a vedere cosa altro comprato ho comprato sempre della linea di mario badescu questo è al aiur non riesco mai a dirlo aiur ialuronic ialuronic e cream quindi è una crema per il contorno occhi all'acido ialuronico e questa è costata 16 euro e 76 io la volevo prendere dal sito di sephora ma il prezzo era maggiore quindi ho optato per acquistarli da douglas questa è la confezione che ho preso io ancora non l'ho utilizzata ma vi farò sapere se mi ci trovo bene oppure no questi sono 14 grammi e quindi vi farò sapere un'altra cosa che ho acquistato è questo ed è un'anti fatica anti rughe perché bene sì dobbiamo anche acquistare queste cose perché essendo arrivate negli anta da poco quindi dobbiamo anche aiutarci questo è un'anti fatica quindi anti borse anti occhiai anti rughe anti tutto quindi ci dovrebbe proprio levigare una cosa esagerata vediamo questo è un contorno occhi con acido ialuronico pure più peptidi questo è costato 25 euro e 56 qui dice un sguardo perfetto in un innovativo trattamento che associa preziosi attivi puri per un intero per un intervento globale su borse occhiai e rughe guardatemi quindi non vedo l'ora di utilizzarlo dice che ha una terapia di 5 combatte con fiori borse occhiai e minimi minimizza e previene le rughe vediamo vediamo se farà tutte queste cose questo non so se ve l'ho detto l'ho acquistato a 25 euro e 56 sempre scontato perché questi qui della collistar costano un bel po sinceramente quindi questo tubettino piccolino che si è suicidato appena lo scatolo e questo ha 15 ml di prodotto quindi anche per questo vi farò sapere perché ho intenzione di utilizzare questi prodotti poi andiamo avanti e vi faccio vedere la causa di questo acquisto che aspettate che ve lo faccio vedere buttiamo il sacchetto e iniziamo con il primo prodotto allora questo sono dei prodotti prima di tutto di The Ordinary questo è il prodotto qua e questo è per quanto riguarda i capelli è un hair care e vi dico cosa dice perché non so se c'è scritto aspettate perché forse lo trovo qua dentro nel foglietto adesso vi dico cosa dice allora questo è un siero per l'infoltimento dei capelli sì allora questo siero concentrato dona capelli più spessi più folti e più corposi e più sane quindi voglio utilizzarlo mi sbaglio ho letto che si applica sui capelli puliti ma che non devono essere lavati sì allora può essere utilizzato o una volta al giorno preferibilmente prima di coricarsi massaggiare con cura sul cuoio capelluto deve essere lasciata in posa non lavare i capelli dopo l'applicazione ok va bene ed è questo io non vedo l'ora di utilizzarlo perché ho bisogno di infoltire i miei capelli perché col fatto della dieta e certe volte anche dello stress ho una caduta pazzesca di capelli e quindi l'ho voluto comprare questo è costato 18 euro e 95 ora vi faccio vedere dei prodotti che sono tre e questi li ho presi e ve lo voglio proprio dire voglio che ne sono veramente molto molto contenta di aver preso questi prodotti perché mi sono stati consigliati da elisabetta che qui su youtube è betti 82 è una persona fantastica fa parte del gruppo anche di telegram per quanto riguarda il makeup e fa anche parte del gruppo delle makeup angels quindi è una bravissima ragazza trucca benissimo trucca anche altre persone quindi è bravissima e vi consiglio ovviamente il suo canale cosa ho preso ho preso questi tre prodotti sempre per quanto riguarda the ordinary questi li ho visti sul suo video infatti ho preso appunti vi faccio proprio vedere che ho preso appunti qui ho scritto the ordinary e ho scritto che cosa servono quindi vi posso anche dire a che cosa servono allora questo è il caffè solution 5 che sarebbe questo e qui dice che questo riduce l'aspetto della pigmentazione del contorno occhi e del gonfiore si deve massaggiare una piccola quantità sul contorno occhi la mattina e la sera in caso di irritazione quindi questo vi dico ad esempio cosa ho scritto tramite il suo video proprio di elisabetta questo qui alla caffeina si mette uno o due gocce sul contorno occhi sia la mattina che la sera dovrebbe sgonfiare e pialla il contorno occhi e lei dice il massaggio si fa picchiettando e poi devi fare la forma dell'infinito quindi dovete fare la forma dell'infinito e quindi ho preso questo che è costato 7,95 euro poi ho preso questo qui all'acido ialuronico che dice ritarda i segni dell'invecchiamento si utilizza nelle rughe di espressione vicino al contorno occhi o vicino alle guance quindi alla bocca scusate e si può unire anche al fondotinta e quindi l'ho voluto prendere perché veramente lei lo consiglia tantissimo specialmente alle pelle un po' più mature e questo l'ho preso anche a 7,95 euro l'ultimo che ho preso è quello di salicidico all'acido 2% solution che questo è per acne e brufoli si mette nei punti desiderati così secca il brufolo questo è quello che ha detto Elisabetta proprio vi ho detto esplicitamente quello che lei mi ha fatto scrivere cioè tramite il suo diciamo tramite il suo video che se me lo ricordo ve lo linkerò qua sopra e questo qui ovviamente lo utilizzerò sia quando mi spunta qualche cosa a me perché non ne soffro tanto ma soprattutto per i miei figli perché molto spesso essendo nella parte della pubertà hanno spesso i brufoli ovviamente come capita in tutti i ragazzi e quindi voglio curarli in modo particolare spero che questo funziona proprio per loro perché l'ho preso sinceramente per loro allora io ringrazio tantissimo Elisabetta e vi dico anche cosa mi ha mandato Douglas proprio come campioncini mi ha mandato questo profumo di Givenchy l'interdit proprio l'interdit per fare la scelta poi c'era questo qui della Bioterm che sarebbe un contorno occhi da applicare la mattina e la sera e poi questo qui della Bioterm che è un trattamento rigenerante fondamentale applicare ogni giorno eccetera eccetera ed è questo allora per quanto riguarda Douglas è tutto devo ringraziare le commesse perché sono state veramente molto molto brave mi hanno dato tre campioncini per una spesa minima tra virgolette di acquisto nel loro store e sono rimasta molto molto contenta spero di trovarmi bene sia con i prodotti di The Ordinary sia con i prodotti di Mario Badescu e niente a che dirvi di più io vi ringrazio per aver visto il mio video e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao